L'inaugurazione oggi della panchina europea qui a Pesaro, quali contenuti, quali significati ha questo progetto? Questo è un piccolo gesto che abbiamo fatto come Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea per ricordare che siamo tutti cittadini europei. In questo momento l'Europa è sotto gli occhi di tutti, ha dato una risposta concreta e utile per l'Italia e per gli altri paesi per rispondere alla pandemia. Siamo chiamati comunque come cittadini anche a contribuire alla conferenza sul futuro dell'Europa che è in corso e alla quale possiamo portare idee e contributi come singoli cittadini e come movimenti. Il nostro gesto vuole ricordare che siamo uniti nella diversità e come popoli d'Europa abbiamo costruito un grande progetto e dobbiamo portarlo avanti. Qui nelle Marche inaugureremo domani a Fano e ad Ancona, poi Falconara Marittima, poi durante la primavera probabilmente ci saranno altre città che aderiranno. Abbiamo il patrocinio dell'AIC Remarche e quindi siamo molto contenti che la regione sia tra quelle che hanno aderito maggiormente a questo progetto che ha visto tra l'altro già altre inaugurazioni in altre parti d'Italia, a Lecco, a Latina, a Bergamo e quindi sono molte le panchine europee in ogni città già. L'idea è nata da una panchina europea realizzata dal Movimento Federalista Europeo di Lecco ed è stata imbrattata con simboli nazifascisti dopo 24 ore. Allora abbiamo cercato di attivare una raccolta fondi per sistemare la panchina e diffondere il progetto in tutta Italia. Siamo stati contenti perché si è attivata una rete di solidarietà tra tutte le sezioni locali del Movimento Federalista Europeo e altre associazioni. Una panchina perché la panchina è un luogo di incontro per tutti, è trasversale per il bambino che passeggia, per l'anziano che si riposa, per la famiglia che fa una passeggiata. Quindi è un importante luogo di incontro ed è la metafora di quello che vorremmo noi fosse l'Europa. La cosa bella di questo progetto è che ogni panchina ha la sua particularità, in particolare si aderiscono al territorio. Per esempio ad Avellino, l'altro ieri abbiamo scritto cittadini di Avellino, cittadini europei. A Lecco, cittadini lecchesi e cittadini d'Europa. Qui abbiamo scritto il motto dell'Unione Europea che è unità nella diversità e anche in varietà te Concordia perché è il motto stesso di Pesaro a Concordia nel nome. È una bella iniziativa dove l'amministrazione comunale ha deciso subito di patrocinarla e sostenere questa iniziativa che nasce dalla gioventù del Movimento Federalista Europeo e vuole lasciare un messaggio chiaro e semplice che l'Europa siamo tutti noi, quindi un messaggio in una piazza anche che ha un valore importante. Dietro c'è la biblioteca, un luogo molto frequentato dai giovani, giovani che sono i primi ad aver capito forse anche la grande opportunità che significa stare in Europa, un'opportunità che loro, tanti giovani hanno colto anche sfruttando l'Erasmus, ma non è solo questo, è tanto di più, ci sono tanti valori, tanti ideali, la pace, uno dei primi grandi obiettivi che l'Unione Europea si era prefissata e che ha raggiunto. Quindi questo è un simbolo semplice, semplice da capire, chiaro che si vede di colore e di impatto in una bella piazza e quindi una bella iniziativa, davvero grazie a tutti i ragazzi che si sono messi sotto la pioggia a realizzare questa bella panchina.